Giulia Giulia Oh, oh, parola Ma poi c'è questo 50 i giri da Pio La reticimina i reti La prima campana a meno 48 La prima eliminazione a meno 47 Mi basta il 5 Mi basta il 5 5 e 1 mentre passa Vai, 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 vai 50 giri Piano 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 La prima gara Mettete Voglio vedere quanto La prima è la prima è la prima La prima è la prima Ragazzi, la prima è la prima Mettete E' la prima Piano Ma che è la prima Ma che è la prima Quella verde Adesso stimo quelli verdi 35 50 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 100 50 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 5-1 Fino 42 Sono 4 Ma non è che ogni giro eliminano 1 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 No, ogni 2 giri forse Numero 80 Vedi ogni giro eliminiamo Perché non è che ogni giro Non è che ogni giro Ma non è che ogni giro Ma non è che ogni giro ma poi si pensa se cade la pula quando un domino quando un domino ma vedi qual è il bello 5,8,2 non ho tempo ah questo qua è linda che cosa ha detto? hanno detto che ha detto ma hanno eliminato quasi poi sono stato bene come troppo! non ho capito con le venti adenne è fatto ha fatto è stato preso è stato preso però ha fatto preso è stato preso 誰 a te se ne mi aspetta il passaggio sa tu la prima vista questo è stato preso e si è fatto più male di tutti quello verde quello verde è caduto si è fatto più male di tutti è lasciato è arrivato 5, 3, 4 5, 5, 2 1, 4, 1 1, 4, 1 1, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 2, 1, w no, a 2, 1, w Sì, sono cadute in cinque! 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 Questa con la doppia non la vengono. 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 Grazie a tutti. Ti stimo, amo. Ma scusa, che cosa vuoi portare? Non mi piu' ne? Amo, ti stimo. Non mi piu' ne? Non mi piu' ne? Non ti stimo solo. 65. E stimi anche l'altro per caffini con me. Non so, non mi stimo. Ma basta! Guarda! Ma quant'è? Siamo davvero fattati. Alla prima la vedo scella, però. No, vabbè, la vedo molto scella. Coppola! Campana di Miro! Grazie a tutti. 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 1, 5, 9... 1, 5, 9... 1, 5, 9... Ma come dobbiamo andare? Ilminazione... Dobbiamo andare tutti? 148... 42... 1, 5, 5, 6... 1, 5, 6... 1, 5, 6... 1, 5, 6... 1, 5, 6...